Lo straordinario scenario della Galleria d'Arte Moderna di Palermo ha ospitato la presentazione del calendario della Serie B 2013-2014. L'evento ha visto la presenza del presidente della Lega di Serie B Andrea Bodi, di quello FIGC Giancarlo Abete, del sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e dei rappresentanti delle 22 società. Per le due abruzzesi, tra i rossoneri Camilo D'Alessandro, Neo DG e il segretario generale Claudio Di Meno di Bucchianico. Per il Delfino Pescara presente il presidente Daniele Sebastiani col vice Danilo Iannascoli. Ed ecco dunque il calendario, la Virtus Lanciano comincerà il suo secondo campionato cadetto a Brescia contro una delle squadre che l'anno scorso hanno sconfitto i rossoneri sia l'andata che il ritorno. L'esordio in casa invece sette giorni dopo contro la Regina, il Bari di Gautieri ad ottobre al Biondi nella settima giornata, l'atteso derby contro il Pescara alla quart'ultima giornata. Andata al Biondi ad inizio dicembre, ritorno all'Adriatico Giovanni Cornacchia ad aprile con una posta in palio che probabilmente sarà pesantissima per gli obiettivi di entrambi i club. Il primo turno è previsto per sabato 24 agosto in notturna con l'anticipo venerdì 23. Nell'ultima giornata il 31 maggio i rossoneri andranno a Cittadella, a Cesena nella terza giornata primo incontro alle ore 15 perché i primi due alle ore 20 e 45 in notturna. Il Pescara invece farà il suo esordio in casa contro la Juve Stabia, poi trasferta Trapani in casa con Crotone, trasferta di Varese che anticiperà il doppio turno casalingo contro Bari Avellino. Il Palermo alla nona sarà affrontata in Sicilia nel girone di andata. Il derby con Lanciano, come già detto, diciottesima giornata, dunque dicembre, al Biondi. Ultima partita del girone d'andata in casa con l'Empoli e dunque il campionato del Pescara finirà in Toscana alla giornata 42. Dunque tutto è pronto ai nastri di partenza la nuova Serie B.